Non risponderà, così come Trump, per questi tiri di guerra connessi dall'iseggio di israeli sulle terre della Palestina. Viva la lotta del nostro popolo! Viva gloria per i nostri matti ricaditi! La nostra nio palestinese è la sua rivolta, la sua resistenza, continuare a ritorno nelle nostre terre. La pace non è di niente, ci sarà quando ci sarà il nostro strato, adesso la capitale di Girolelle. Evitiamo le persone presenti qui e ringraziamo da tutto il cuore di esserci stati a nostro piano, hanno dimostrato che nel mondo ci sono ancora delle coscienze.